Da alcune settimane all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela è presente una nuova colonna endoscopica che permette di individuare nell'ambito degli screening oncologici polipi e neoplasie. Attraverso un grande monitor vengono proiettate le immagini riprese da una telecamera durante il lungo esame diagnostico. L'attrezzatura sanitaria acquistata dall'ASP provinciale è di ultima generazione e in Sicilia ce ne sono pochissime. Mentre noi con l'endoscopia tradizionale vediamo solitamente in visione frontale 170-180 gradi e per esplorare lateralmente dobbiamo fare una serie di manovre di ginnastica, con queste colonne, con questi endoscopi che sono con tre telecamere, una frontale e due laterali, abbiamo un angolo di visione a 130 gradi, il che ci permette di recuperare un 20% di polipi che non avremmo visto. Il polipo è una lesione precangerosa per cui recuperiamo una parte di pazienti che poi a distanza di anni magari o al controllo successivo avremmo trovato un polipo. E siccome il polipo è una lesione precangerosa, prima la trovi, prima la levi e meglio è. Grazie.